I giudici facciano luce su quanto accaduto a Montalbino, a Nocera Inferiore, scongiurando la prescrizione. È il grido d'allarme, l'appello levato dai familiari delle tre vittime morte il 4 marzo 2005 sotto la lava assassina che si staccò dal Monte Albino di Nocera Inferiore. Il processo sta, siamo noi in vivo del processo, ci auguriamo che praticamente si arrivi a inizio marzo che sarebbe la data di prescrizione con una sentenza di primo grado perché finire il tutto in una bolla di sapone sarebbe veramente un torto gravissimo sia per chi ci ha rimesso la vita in questa situazione e sia per quello che poi attiene alla devastazione che c'è stato. Ci auguriamo ovviamente che tutte le associazioni, anzi chi vuole stare al nostro fianco, tutte le associazioni nocerine e non, di starci al fianco perché abbiamo bisogno della presenza della cittadinanza e dell'opinione pubblica al nostro fianco in questo momento. Ieri l'ultima udienza del processo bis è partito circa un anno fa dopo che per un vizio di notifica il primo processo è stato annullato in Cassazione. Ora i familiari chiedono che venga fatta definitivamente giustizia e che i responsabili di quanto accaduto 15 anni fa paghino. Allora noi come associazione, come cittadini, associazione ambientalista di Nocera che stiamo seguendo la vicenda del processo, siamo molto attenti appunto a seguire l'attività processuale proprio perché vogliamo che non si perde innanzitutto l'attenzione su quello che è stato un tragico evento che ha riguardato ovviamente persone che sono morte ma ovviamente ha riguardato anche la nostra montagna che sappiamo è molto delicata e bisogna stare attenti e quindi invitiamo le amministrazioni, i cittadini e altre associazioni a tenere sempre alta la guardia sia su quello che è successo nell'Antonio 2005 sia quello che sta succedendo oggi perché le nostre montagne sono molto fragili, sono delicate, le attività estrative purtroppo continuano con autorizzazione secondo noi anche dubbie e quindi dobbiamo evitare che un'altra frana accada per cui noi chiediamo che venga fermata e venga chiusa la cava, questo è l'obiettivo principale come associazioni e come amministrazione che venga fermata e chiusa la cava definitivamente non si può scavare più su quella montagna